Ciao Mert, sono Lu, ho i capelli bagnati perché sono appena uscita dalla doccia e volevo farti tantissimi auguri per il tuo compleanno e penso che tu sia una delle parti fondamentali del gruppo come tutti gli altri però mi ricorderò sempre quanto ci fai ridere con le tue storie o con lo schizzo della nonna ovviamente e niente guarda ti faccio vedere questo fantastico tasso nel mio stemma tasso rosso che mi ha dipinto mia zia e niente finisco con mandarti un bacio e dirti che ti voglio un sacco di bene, ciao Mert Siamo a scuola, che brutta, mamma che brutta putta di scuola che c'ha, ma non lo faccio tu E' la Mattia, è la Mattia, non lo conosce, è dalla Svizzera, fai gli auguri, faccio gli auguri, 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 auguri Visto che bravo, non sono quelli simpatici ma ci sono gli altri Comunque siamo vicini di banca e il giorno che l'ha fatto la verifica su Leopardi, se mai farei Leopardi Non l'ha già fatto lui, lui l'ha fatto tipo in seconda Leopardi, no Ecco Aspetta, fatta, lui è Svizzera, non fa politica italiana Merda, beh siccome è sempre a casa sentire a parlare di lui, è un cartino quindi gli ignorano Perché è depresso, non ha venuto nessuno con le cose di lì Ma la sta durando tantissimo, è un pre-video questo È un pre-video, ciao Ciao E perché? Ciao Mert Auguri Paola devi entrare nei video È capito ma, siamo stretti? Sì, è un primo Bene Aspetta che sono troppo alta Ah, in basso Ecco, ehm, tanti auguri Tanti auguri, siamo a scuola Il carcere che è il mantino Mi piace, non mi piace Sto mangiando dei cracker Non mi piacciono i cracker Io un barretta fitness Il cioccolato, almeno il cioccolato lei Fa di cartone Allora, ho sentito che andare a Barcellona Ma da che va? Ma da che va? Fine marzo Fine marzo è dispersiato Quindi vi metti Parigi quest'anno Tu, Parigi Strabella Parigi Io spero ancora in Londra No, Parigi Schifo Parigi Parigi Più te E niente, tanti auguri Tanti auguri Sono 18, quindi sei vecchio Siamo a Quetanelli E se non più Paola ha fatto un video prima Naturalmente l'ha girato Ha girato il telefono Ma non sono capace Ma che mi dono un iPhone Ma devi capire Tu prendi un iPhone E impara a fare i video Eh Non me lo regalai tu l'iPhone No Allora Tranquilla che è nato Niente Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio Auguri ancora Ciao 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 Mattias Allora Scusami se sono un po' Ho una faccia un po' distrutta Ma Sono tipo le 8 del mattino E qui sono ancora Tutti a letto Infatti mi sono rifugiata In sala per fare così Vedi auguri Guarda Tra l'altro l'abbiamo decorata Con i cuffetti del ralunno Adesso ti faccio vedere Guarda E anche Lì Sì lo so Sono qui E niente Allora Volevo farti Tantissimi auguri Per i tuoi 18 anni Mi spiace Tantissimo Non essere Lì con Per festeggiarli Però sappi che È come Se fossi lì con te Oddio Questa cosa è un po' creepy Vabbè E Niente Ci conosciamo da Quanto? Tre anni Scusa O forse anche Sì forse anche di più E Sono Sono contentissima Che nell'ultimo Nell'ultimo anno Ci siamo Abbiamo legato Così tanto Perché Cioè Tu sei Un grande amico Mi fai sempre Tornare Il sorriso Tu ci sei sempre per me E Niente Volevo dirti Che ti voglio tantissimo bene Che anche io Ci sono sempre Ci sono sempre Quando non avrai bisogno E niente Spero di poterti Riabbracciare presto E Ti voglio tantissimo bene Un abbraccione E Buon compleanno Ciao Matt Questo è il tuo video di compleanno Che non ti aspetti Finalmente è arrivato anche il tuo turno Tu sei quello più importante Perché da te è iniziato tutto questo Tutto questo giro di video Di video Quindi tu C'è un giro neanche per te All'inferno Sattilo Ma a parte questo Volevamo augurarti Tanti auguri Anche tu adesso hai Ciotto anni Ciotto E Siamo a scuola Se si vede E Niente Volevo dirti Che sei un ragazzo Fantastico Simpaticissimo Sì Il miglior svizzero Che esista Esatto E niente Non ci sono parole Davvero per descriverti Mi ricordo Se l'avete visto Con la maglietta di Muse Quando Perché mi ricordo Che sulla pagina Avevi scritto Che sarei stata Adorevi la maglietta di Muse Quando ti ho vissuto Tipo Ciao Ho fatto seguire Le domande Una cosa Di Ross No Tu avevi la maglietta Del campo mezzo sangue Quando ci siamo viste E abbiamo un intruso Auguri Mattias Sì Di tanti auguri Mattias Ma va bene Tanti auguri Mattias Ok Ok A posto E niente Ho avuto Un auguri Della Miriam Niente Ciao Ciao Comunque Matt mi piacciono le tue cose Perché mi stai simpatico Perché lei mi ha parlato di te Anche se non ti conosco Ciao Ecco Ci vediamo presto Matt Ciao Ancora tanti auguri Ciao Amico James Buon compleanno Sono appena arrivata a Londra Sono le 4 di mattina Mi sono fatta una doccia Non vedi l'ora di andare a dormire Ma Volevo farti comunque L'ora Quindi Passa un buon compleanno E ci vedremo presto Per mandare tante 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 patatine Ciao Ciao Matt Faccio questo video Un po' molto Mento veloce Mi dispiace È che Le padele Ma da corte Non so perché Non voglio Quindi tagli pezzo Come l'altra volta Che è bruttissimo E Mi si stanno Tipo inviando Messaggi da sole Non capisco Ho paura E Non so mai cosa dire Nei video Mi dispiace Quindi Il concetto Lo restringo E dico che Voglio farti Tanti 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 Ti auguri Di compleanno E Non mi dico L'ora di Rivederti Perché mi manchi Mi mancate tutti Tanto Tanto E allora Per ora Vi mando Un grande 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 Abbraccio Virtuale Ciao 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 Grazie a tutti. Ciao Matt, tu sei un ragazzo speciale, sei un tasso rosso e visto che canti sempre, io ti faccio questo video di compleanno cantando. Qua c'è il piano forte, dovrei studiare per ancora 56 ore, ma invece ti faccio il video di compleanno perché ti voglio tanto bene. E fuori c'è la notte bianca e io non faccio il giro perché devo suonare, perché se no la propria mi ammazza, ma forse dopo vado. Comunque ti voglio augurare un buon compleanno. Nooo, lì c'è anche Harry Potter. Ciao. Ah, aspetta, visto che non ho ancora fermato dico anche due parole. Sei un ragazzo molto originale, però con il tuo carisma riusci a coinvolgere tutti. Ciao, vorrei dirti tantissime cose, però come sempre quando faccio video non mi vengono in mente. Buon pomeriggio, passate una bellissima giornata e forza a tasto rosso. Ciao. Ciao Matt, come va? Video velocissimo, non è stato orribile, sono appena riuscita dalla doccia, sono in pigiama struccata, però ci tenevo a farti tantissimi auguri di buon compleanno. Quindi spero di vederti prestissimo, prima torno all'Inghilterra. Un bacione, mi manca tanto. Happy birthday, Mattias. This is the third time I've done this video. So, no problem, happy birthday to you. And you're finally 18 years old and now the hype is marvelous. Beautiful. You are older. So, the cat is on the table, you're the fish, the other fi, the, 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 Oddio non so neanche che fasi base, the real great. So, happy 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 birthday, birthday birthday birthday, baby. tanto mi boggiano auguri Mattia Mattia io sono un'imbucata comunque tanti auguri Mattia tanti auguri siamo in giro per Bologna in verità siamo alla mia estensione qui me ne devo andare e qui niente facciamo vedere qui ciao auguri me auguri ciao ciao Matt tantissimi auguri di buon compleanno e niente è il primo video che faccio dalla mia nuova camera e dalla mia nuova casa quindi vabbiamo inaugurato anche questa cosa e niente sono qui che vi faccio gli auguri accanto a una super parecchia che ho super personalizzato e è super porteriana un quadro lo riempirò e ci metterò tutte le foto del nostro rimo che mi dia e niente continuo a dire niente ma pazienza spero di vederci presto spero che tu abbia passato una bellissima festa di compleanno che in teoria si dovresti averci fatto e spero mi spiace un sacco di non essere potuto venire a trovarti ma sai che ti aspettiamo qui e sei benvenuto e insomma tantissimi sulle care cose e a prestissimo ah ps spero che il video ti sia piaciuto ammetto di averlo montato in fretta e furia perchè ero in ritardo e niente abbiamo un patto quindi ciao